ben ritrovati finalmente ce l'ho fatta anche se non so la qualità di questo video come sarà perché in questo periodo stiamo passando il sistema delle linee del computer da una cosa all'altra e quindi non so bene come verrà la cosa però penso che nei prossimi giorni sarà tutto in ordine e quindi dovrebbe in teoria a funzionare tutto meglio di prima si spera non lo so avevo altri video da registrare però stamattina alle 3 ho terminato di leggere un romanzo un romanzo che pare dai bundle che girano essere un successo globale quindi ovviamente l'ho letto e il romanzo in questione si intitola anna o l'autore è messi black messi black che come dice la nota biografica ha studiato lettere a darmi university e alberto in college di oxford poi a un certo punto scopre che mediamente un essere umano passa 33 anni della propria vita dormendo ed ecco che gli scatta alla curiosità di approfondire le tematiche legate ai crimini commessi in stato di sonnambulismo e in questa sua ricerca scopre l'esistenza della sindrome è conosciuta come sindrome della rassegnazione anche mi sono fatto la mia piccola ricerca è appunto scoperto che la sindrome della rassegnazione denominata anche della bella addormentata è così riassumibile dormire per non vivere per non vivere cosa una situazione drammatica o per non vivere le conseguenze di un gesto altamente drammatico questa sarebbe la premessa il romanzo di che adesso vi do gli estremi pubblicato da la nave di teseo 480 pagine prezzo di copertina di 22 euro reperibile in formato elettronico 11 euro e 99 diciamo che dovrebbe prendere spunto da questa a sindrome della nominirete della rassegnazione per raccontarci appunto la storia di amma o a no è una scrittrice 25 n scrittrice giornalista che insieme a due amici da indira va controcorrente nell'epoca del digitale del tutto elettronico tutto a portata di un click lei propone una rivista cartacea intitolata elementary è un mensile è una cosa molto amatoriale che loro fanno in casa che però lentamente comincia ad avere il suo piccolo angolo di seguiti abbonati gente che mette inserzione pubblicitaria quindi paga e permette al giornale di proseguire la sua attività ma a un certo punto tutto questo si blocca si blocca perché anna viene invitata dalla madre ad una ad un weekend avventura diciamo così in questo weekend saranno appunto la madre e il padre di anna anna suo fratello e c'è la possibilità di invitare degli ospiti ed ecco che anna estende l'invito a dag e indira i suoi amici i suoi compagni di avventura di questa rivista e tutti partono alla volta della foresta la foresta praticamente un luogo abbastanza isolato dove c'è appunto una foresta dove ci sono dei bungalow dove alloggeranno per il weekend e l'avventura consiste nell'essere divisi in due squadre i cacciatori e i sopravvissuti una specie di non so caccia all'uomo i cacciatori devono cacciare i sopravvissuti con quelle armi caricate a vernice paint qualcosa non lo so non mi interessano questa cosa qui comunque sta di fatto che la notte del 30 agosto del 2019 anna in preda al sonnambulismo entra nel cottage dove alloggiano indira e dug e li uccide con 20 coltellate ognuno e dopo di che cade in questa sindrome della rassegnazione si addormenta si addormenta e niente e nessuno riescono più a svegliarla viene ricoverata sono quattro anni che ricoverata in un ospedale psichiatrico ma ecco che a un certo punto arriva il personaggio principale ben o meglio dottor benjamin prince uno psicologo che studia appunto sindrome della rassegnazione i casi di sonnambulismo le problematiche legate ai disturbi del sonno e che tempo prima aveva scritto sia degli articoli che un libro concernenti appunto una sua teoria sul come ridestare le persone vittime di questa sindrome lui appunto è a casa e riceve la telefonata della professoressa bloom la sua mentore e la sua capa nella clinica del sonno heavy dove lui lavora la clinica del sonno heavy è una clinica piccola privata dove c'è un ala vip e alla quale accedono da un ingresso secondario quindi è lontano da occhi indiscreti personaggi famosi attori rock star appartenenti anche alla famiglia reale britannica quando sono stato di crisi profonda esauriti bisognosi di riposo di ricaricarsi quindi questa clinica una specie di rifugio sicuro la professoressa bloom lo chiama e gli dice di tornare immediatamente in clinica lui diceva sono appena tornato a casa non fare storie vieni subito viene subito perché da lui c'è non me lo sono segnato ma non ha importanza c'è una vice primo ministro della giustizia che è lì perché loro hanno letto di questa teoria del dottor a prince sulla possibilità di risvegliare le persone che dormono da lungo tempo perché i tempi stringono perché siccome su anna pesa accusa di duplice omicidio bisogna portarla alla sbarra e non si può portare una persona addormentata bisogna portare una persona sveglia orientata nel tempo nello spazio quindi gli dicono sperimenti su anna la sua teoria lui non fa nemmeno in tempo ad obiettare dicendo appunto che la sua è una teoria che non ha prove concrete che possa funzionare perché nel frattempo in clinica è già stata trasferita anna e l'infermiera che la segue da quando è stata ricoverata nell'ospedale precedente harriet harriet e ama quindi entrano a far parte del progetto di risveglio della bella addormentata non vado avanti nella storia per non spoilerarvi alcunché vi dico solo come strutturato il libro il libro è strutturato in piccoli piccoli capitoli il titolo di ogni capitolo è il nome del protagonista del capitolo quindi avrebbe capitoli ben quindi ben prince il dottore psicologo che si metterà a praticare la sua idea di risveglio la bloom quindi la professoressa bloom e poi il taccuino di anna c'è qualcuno che legge il taccuino di anna una specie di diario appunto che ci riporta in un flashback a quello che ha preceduto la notte del massacro alla foresta poi ci sono altri vari personaggi lola paziente x e sospetto 8 tutta questa storia comincia a intrigare prince anche perché c'è una cosa molto curiosa il duplice delitto di anna 30 agosto 2019 cade proprio nel ventesimo anniversario della morte di sally turner avvenuto il 30 agosto del 1999 ma chi è sally turner sally turner era una donna accusata di infanticidio lei aveva ucciso sempre sotto l'effetto del sonnambulismo i due figli di primo letto del marito costai però non era accaduta nella sindrome della rassegnazione ma era stata portata nell'ospedale giudiziario psichiatrico di broadmoor e qui su di lei era stato effettuato il cosiddetto esperimento medea non vi dico altro le mie considerazioni il libro aveva una bella idea ma la narrazione è lenta molto troppo lenta il personaggio di ben lo psicologo colui che dovrebbe chiarire i percorsi mentali è quello che ha il percorso mentale più incasinato di tutti cioè uno che avrebbe bisogno non di uno bravo di un intero equip per fare ordine nel suo caos mentale il personaggio di anna è un personaggio ambivalente l'inserimento di questi altri personaggi lola sospetto 8 paziente x non fanno che arricchire l'insalata mista che si sta creando a un certo punto lettore un po smaliziato riesce a dare dei nomi e delle connotazioni a questi pseudonimi chi si c'era dietro lola chi dietro sospetto 8 e chi è paziente x black ci conduce attraverso questa narrazione lenta quasi soporifera a un primo finale poi un colpo di scena secondo finale per arrivare alla fine al terzo e ultimo finale quello che poi è quasi un finale telefonato cioè o sei tonto o capisci come sono andate le cose io non capisco come un tale minestrone narrativo possa essere diventato un caso letterario globale globale o così almeno ti viene venduto perché personalmente io l'ho finito di leggere questa mattina ripeto alle 3 ho detto faccio subito il video perché la seconda cosa che farò dopo aver caricato il video sarà quello di cancellarlo dalla mia libreria sto mattonazzo sconclusionato dove ribadisco il personaggio principale ben lo psicologo colui che dovrebbe avere ben chiare le dinamiche mentali è il più infognato stavo per dire una cosa più forte nei nelle circonvoluzioni mentali sono uno che si fa le seghe mentali senza starci a girare troppo intorno mi è piaciuto sto libro no no primo perché l'unica cosa originale per me che non la conoscevo era questa sindrome della rassegnazione non sapevo veramente che esistesse l'unica nota interessante dopodiché tutti gli altri personaggi ben la moglie clara che il capo della polizia cioè la prima che arriverà sulla scena del delitto e che proprio grazie al fatto di acquisire per prima alla scena del delitto sarà investita dal dalla polizia di diventarne la rispettrice capo dirigerà lei tutte le indagini e tutta la manfrina le menate sul fatto che il suo matrimonio da quando è intervenuto il caso di anna o sia andato a carte 48 che lui adesso sia divorziato non possa vedere la sua dolce bambina dalla mano appiccicosa cosa questa che trovo quanto disgustosa ma papino pancino si vede che è contento di tenersi una mano appiccicosa tra le sue degustibus insomma è tutto un butta dentro di sentimenti di ripensamenti di ma forse così ma forse cosa quando in realtà nella cosa è quasi a sbattuta in faccia al lettore se ribadisco poco poco smaliziato dalle dinamiche strutturali della narrazione di un certo tipo si sa che ti viene buttato tanto fumo negli occhi ma alla fine i colpevoli c'è lì davanti c'hanno cartellino sono io sono io sono io volete leggerlo ma leggetelo magari troverete anche voi questo libro una pietra miliare della narrativa personalmente non dico che l'ho trovato come la corazzata potionchi di fantozzi ma poco ci manca comunque io vi ridò gli estremi di questo romanzo allora vado a rivedere sulla pagina lì matthew black anna o la nave di teseo 480 pagine che potevano essere tranquillamente 230 250 al massimo ci stava tutto prezzo di copertina 22 euro formato elettronico 11 euro e 90 lo volete leggerlo leggete veloci mancherebbe altro personalmente mai più mai più oddio era l'opera prima magari se metti black scriverà un secondo romanzo imparerà a animare un po tutti questi arzigogoli narrativi che ci ha buttato dentro e che a mio avviso sono serviti soltanto ad allungare un brodo già di per sé sciapo ma ripeto nel mio canale io do soltanto unicamente la mia personalissima recensione di ciò che ho letto rispetto le idee di tutti ci mancherebbe altro però capolavoro di sicuro non è no 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 sidatevi non è un capolavoro da leggere su 480 pagine mi porta via tempo tanto di quel tempo che potreste leggere qualcosa di meglio di sicuro con questo è tutto un bacione una rivederci a presto ora vedo di caricare questo video è considerato il fatto che nei prossimi giorni avrò grossi problemi di linea cerco considerato il fatto anche che sono qui mezza ingessata perché una tendinite alla schiena che mi si porta via di registrare altri video e poi se mi riesce di caricarli date stabilite nei giorni a venire quindi se mi vedrete sempre con la stessa maglietta trucco non ve ne stupite sono sempre io nello stesso giorno in maniera continuativa che registro ma tanto ve lo dico sempre quella che conta è la sostanza e non l'apparenza di nuovo un bacione a tutti e arrivederci presto ciao